Buongiorno a tutti, grazie per essere qui per l'Age Investum & Credit Fund, l'aggiornamento mensile per il mese di febbraio. Febbraio è stato un buon mese per noi, abbiamo avuto una performance positiva di circa 100 basis point, un 1%. Le special situation ha contribuito positivamente, in particolar modo Telecom Italia. Siamo molto positivi su quelli che saranno gli sviluppi di Telecom Italia per la parte dell'azionario, l'equity lo vediamo molto sottovalutato, vediamo o una vendita del network o più probabilmente una OPA totale con vivendi, CDP, governo e altri financial players che parteciperanno e poi andranno a dividere quella che è la netcode, la service code. Comunque è relativamente positivo su tutta la struttura, molto positivo sull'equity, meno positivo sul credito, in quanto ovviamente dipende dal tipo di società che riceverà il debito andando avanti. Per quanto riguarda invece gli altri settori, su financial abbiamo fatto ancora molto bene, soprattutto su alcune special sales quali monta dei paschi che continuano ad apprezzarsi e rimane ancora molto a buon mercato rispetto a quello che è il valore intrinsico, il valore for value delle security. Abbiamo perso soldi su E-Brasil sulla parte di stress mentre abbiamo fatto bene su Orpea, su E-Brasili bond hanno fatto un overshooting secondo noi di low single digits, noi ci aspettiamo che con il piano di ristrutturazione che verrà annunciato dovremmo trovare il fair value tra i 20 e i 30, quindi rimaniamo molto positivi su questa situazione. Oltre a quello sulla parte macro abbiamo sofferto un po' su alcuni corti, rimaniamo scettici su quella che è la tenuta del mercato, pensiamo che al momento siamo ancora in una fase di QE perché l'America semplicemente non sta facendo il QT in quanto il debt ceiling lo impedisce, l'ICB non ha ancora iniziato e Bank of Japan e Bank of China continuano a iniettare liquidità. Ovvio che questa situazione cambierà, passeremo da un active QE ad un passive QT dove i reinvestment scendono e poi pian pianino vedremo un vero QT come sta facendo la banca d'Inghilterra nei prossimi mesi e quindi ci aspettiamo un grosso liquidity crisis che potrebbe arrivare il più presto tra maggio e giugno ma potrebbe essere anche semplicemente posticipato a ottobre novembre, però quello rimane inevitabile secondo noi. Inoltre il mercato sembra molto positivo su questa combinazione di tassi alti ma non troppo alti, inflazione che scende, che si stabilizza mentre invece la crescita economica non ne soffre più di tanto. Sembrano più speranze che una visione oggettiva di quello che sarà il futuro e quindi rimaniamo abbastanza scettici, il focus per noi rimane credit and equity selection, molto bottom up, ci sono grandissime opportunità su quello e ci focalizziamo su quelle, mentre sulla parte macro rimaniamo molto cauti ma tendenzialmente negativi. Grazie.